L'occupazione abusiva era in corso da poche ore. Un uomo e una donna di origine rom erano entrati con l'auto e una roulotte nel terreno dell'area ex Grosoli in via Marconi a Cadoneghe. Immediata la firma dell'ordinanza da parte del sindaco Marco Schiesaro. Dopo la prima notifica della polizia locale, i due hanno lasciato il terreno. Si tratta di vecchie conoscenze, ha spiegato Schiesaro. Persone con precedenti penali che in passato avevano abitato negli alloggi Ater e ne avevano perso il diritto a causa di gravi danni arrecati agli immobili. Dopo qualche anno a Verona hanno ben pensato di far rientro in zona, ma la musica è cambiata, qui si rispettano le regole. Nell'area ex Grosoli nei prossimi mesi partiranno i lavori di riqualifica. Grazie a tutti.